Ciao! Io sono noi! Oggi prepariamo la zuppa di miso giapponese, si chiama miso shiru. La zuppa di miso è molto nutriente e per la nostra felice colazione basta togliere la zuppa di miso e il rito bianco. Ma ricordate, il punto di questo piatto semplice è darci il brodo. E' essenziale per fare buona zuppa o utenti per i giapponese. Allora, cominciamo! Grazie! 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 Grazie per guardare il mio video! Se vuoi sapere come cucinare l'autentica cucina giapponese iscriviti al mio canale! Godiamoci la cucina? Allora, a presto! Ciao ciao! Matane!